Non sei neanche cinquantino, sei nato nel 1962, ami le diavolerie tecnologiche, fumi tanto, preferibilmente Malboro Rossi, portavi da giovane occhiali Ray-Ban a goccia per nascondere il tuo occhio strabico, ti piace vestirti alla moda, fai affari con mezzo mondo, te lo ha insegnato tuo padre, hai il rimorso di vedere tua figlia pochissime volte e sempre di fretta, c'è chi ti chiama diaboliche per la tua passione verso il fumetto, ti piace farti chiamare Alessio, da buon siciliano sei molto legato alla tua famiglia, ti piacciono le donne straniere, qualcuno ti considera il ministro degli esteri di Cosa Nostra, se avessi continuato gli studi avresti fatto il dottore o il mercante d'arte, qualcun altro ti chiamò Usicu, il magro, ti ritieni una vittima del sistema, di te dici ho ucciso così tante persone che potrei riempire un cimitero, questa Matteo è la tua storia, che un po' è anche la mia. Matteo Messina Denaro, l'invisibile, di Giacomo Di Girolamo, editori riuniti, il primo libro che racconta la vita dell'ultimo capo dei capi e tutti i volti, i nomi e le storie della nuova mafia.